Oggi giornata di pulizie, ma non di casa, del pollaio. Mi chiedete spesso video sulla mia vita in campagna e pulire il pollaio è sicuramente una cosa che ne fa parte. Galline e pulcinotti hanno fatto la cacca anche nei nidi, quindi togliamo le uova che sono state fatte stamattina, me le metto in tasca sperando di non romperle e mettiamoci subito al lavoro. Per iniziare prendo questa scopa molto vecchia che mi servirà per raggruppare e scrostare le cacchette. Come vedete ce ne sono tantissime sotto la zona notte, anche se la maggior parte le fanno nel prato dove razzolano ogni giorno. Utile per noi che un po' ce la lasciano qui perché noi la usiamo anche come fertilizzante per l'orto. Tolto il grosso da una spruzzata con il tubo dell'acqua, il pollaio l'abbiamo costruito con una pendenza, quindi l'acqua fluirà di fuori. E per quanto riguarda la muffa cerchiamo di stare più attenti possibile a fare questo lavoro nelle giornate di sole. Passiamo ora ai covatoi. Qui c'è della cacchina perché ogni tanto i pulcinotti preferiscono dormire qua piuttosto che sul posatoio. Credo che si sentano più protetti nei cubicoli, ma non va bene questa cosa. Perché le galline sono molto pulite e ovviamente non vanno a fare le uova dove è sporco. Quindi togliamo tutta la paglia vecchia, che poi questa non è paglia, sono tipo trucioli di legno. Alle mie galline piacciono di più e soprattutto non mi rispargono ovunque. E poi non so perché si umidiscono meno facilmente. Esperienza mia questo, eh? Non è regola. Mi devo comprare una spazzola un po' più dura per pulire questa parte sotto. Però almeno i nidi sono puliti. Ora tocca pulire la parte esterna del pollaio. E per farlo ho comprato su Amazon dei trucioli di legno. Perché di base il problema è che il terreno del pollaio è diventato una landa deserta. Le galline razzolando e beccando l'erba l'hanno finita tutta. Quindi soprattutto quando piove si crea tutto fango. Mettendo questo truciolato di legno invece si asciuga un pochino. E lo rende anche un po' più carino. Che comunque non mi dispiace. Vedete? Molto meglio, no? Anche da lontano ha un aspetto diverso, più curato. C'è ancora molto lavoro da fare a questo pollaio. Ma intanto per quello che riusciamo sono contenta di come sta avvenendo. E sono sicura che le galline saranno molto più felici di non stare più insieme alle papere. Infatti stanno facendo un sacco di uova ultimamente. Sarà una specie di ringraziamento? Chi lo sa, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a seguirmi sia qui che su tutti gli altri social. E vi mando un bacino. Ciao!